La Toscana che non odia è questo l'argomento del convegno che si è svolto al cinema La Compagnia il pomeriggio del 30 novembre, festa della Toscana e anniversario dell'abolizione della pena di morte avvenuta nel 1786 per mano di Pietro Leopoldo. Il Gran Ducato fu il primo stato al mondo ad abolire questa pena e la Toscana è sempre stata terra di diritti. Per questa ragione il filo conduttore è partito da quell'atto rivoluzionario di 235 anni fa ed è arrivata la lotta ai linguaggi d'odio con la sottoscrizione del Manifesto della Comunicazione Non Ostile. All'incontro ha partecipato, collegato da Sudafrica, anche Silo Atan, CEO del Nelson Mandela Foundation. Tutti i linguaggi di odio e l'odio in generale in realtà comportano violenza, a volte fisica e a volte verbale. In questo momento abbiamo bisogno di una leadership importante e io spero tanto che venga proprio dalla Toscana. Abbiamo bisogno di leader che possano veramente resistere alla tentazione di sfruttare i movimenti e le persone stesse, come aveva detto Madiba Nelson Mandela. La firma del Manifesto della Comunicazione Non Ostile è un passo importantissimo verso un linguaggio sempre più inclusivo. Tantissime persone con una grande sensibilità hanno detto ok proviamo a vivere meglio la rete perché iniziavano i primi episodi di hate speech, di fake news, di cyberbullismo eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a scambiarci delle idee, sono nati dei principi, abbiamo condiviso questi primi principi con la rete, ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti e così a febbraio di cinque anni fa ormai è nato il Manifesto della Comunicazione Non Ostile. Su 800.000 tweet che sono stati esaminati da inizio dell'anno a ottobre il 68% usa linguaggi d'odio, non so se capite la potenza del problema e allora i linguaggi d'odio soprattutto verso le donne e molto spesso quel linguaggio d'odio si trasforma in violenza, violenza fisica. Noi dobbiamo lavorare insieme alle ragazze e ragazzi, oggi è solo l'inizio, andremo nelle scuole, costruiremo cultura civica, lavoreremo insieme perché la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia. Al convegno sono intervenuti il vignettista Sergio Staino che ha realizzato una vignetta per la festa della Toscana, il calciatore Calidu Coulibaly, Davide Paolino di Lercio.it, Bernard Dica consigliere del Presidente della Regione Toscana all'innovazione e alle politiche giovanili, Jacopo Melio consigliere regionale, Francesco Verducci senatore e vicepresidente della Commissione Segre, Ernesto Pellecchia direttore ufficio scolastico regionale della Toscana, il cantante Lorenzo Baglioni, Paola Barretta coordinatrice dell'Associazione Carta di Roma, Enzo Brogi presidente del Corecom Toscana, Claudia Fusani giornalista, Vera Geno accademica e saggista e gli studenti di Rondine, cittadella della pace.